C'è stata una buona reazione nel secondo tempo dopo aver preso un gol stupido come al solito quando mancavano 10 secondi, quando devi stare lì a difendere lo 0-0, stare lì con i denti stretti dove devi avere la massima attenzione, però è una cosa purtroppo che ci sta capitando spesso. Nel secondo tempo invece abbiamo reagito, abbiamo voluto vincere la partita, abbiamo avuto anche l'occasione per farlo allo scadere, però il momento è questo, la partita non è stata delle migliori, però era quello che ci serviva per fare un punto qua ad Ascol. Ci siamo un po' adattati alle assenze, agli infortuni, quindi era una soluzione che abbiamo provato in settimana cercando di mettere un po' di giocatori in posizioni diverse rispetto al solito. La Serie B è questa, bisogna adattarci, fare di ogni partita una finale perché questo deve essere lo spirito, quello che abbiamo messo comunque nel secondo tempo, cercare di vincere i duelli, le seconde palle, così si vincono le partite. Adesso c'è la sosta e dobbiamo cercare di lavorare bene, di migliorare, cerchiamo anche di recuperare qualche infortunio che ci può tornare utile poi per la partita di Cosenza. Grazie a tutti.